Il dottor Giuseppe Citrigno il 20 novembre si alza il sipario sulla stagione di prosa al Teatro Rendano con tantissimi appuntamenti, diciamo il primo. Il 20 novembre noi debuttiamo con Vacanze Romane, il musical come protagonista con Serena Utieri, grande successo al Sestina, quindi veramente un grande debutto per noi quest'anno al Rendano. Ritornerà Vincenzo Salemme, ritornerà Luigi De Filippo, avremo di nuovo Carlo Bucci Rosso e soprattutto ci piace ricordare che chiuderemo la stagione ad aprile con i due musical più importanti della stagione teatrale dello scorso anno. Jesus Christ Superstar e Billy Elliot. Sono stati due progetti, due produzioni che abbiamo voluto fortemente, che il nostro direttore artistico, Antonio, ci ha voluto fortemente. Billy Elliot l'anno scorso avevamo già contattato, però purtroppo poi non hanno fatto il Meridione, sono fermati solo a Napoli, quindi non hanno fatto la Sicilia, quindi non sono passati dalla Calabria, però quest'anno siamo riusciti a metterlo in cartellone. Insieme a Billy Elliot, che è anche l'altra produzione di Piparo, siamo riusciti ad accapararci anche Jesus Christ Superstar, che penso che sia la degna chiusura di una grande stagione, la quarta, che proponiamo al Rendano e che penso sia ben accolta dal pubblico come è stata quella dell'anno precedente. Ricordiamo quando parte la campagna abbonamenti? La campagna abbonamenti parte dal 3 ottobre per la prelazione, cioè per tutti gli abbonati dell'anno precedente e poi nelle settimane successive i nuovi abbonati, chi vuole cambiare posto, i nuovi abbonati e poi penso i primi di novembre per i biglietti per singola rappresentazione. Grazie.